Come sono gestiti quasi 5.000 musei, monumenti e aree archeologiche, le migliaia di spazi di spettacolo e le centinaia di aree naturalistiche diffuse nel nostro territorio? E quale concreto contributo allo sviluppo possono offrire all'intero paese grazie ad una gestione efficace che coniughi la sostenibilità economica con il raggiungimento di obiettivi di valorizzazione e pubblica fruizione delle risorse culturali e paesaggistiche? Su questi temi hanno aperto un ampio dibattito Federculture, Agis, Alleanza Cooperativa Italiana e Turismo e Beni Culturali e Forum Nazionale del Terzo Settore, che all'Aquila hanno organizzato la prima conferenza nazionale dell'impresa culturale. La scelta dell'Aquila non è casuale. Non è un caso, perché l'Aquila è un simbolo dell'Italia che vuole rinascere, che ha enormi potenzialità da esprimere, che patisce a volte delle sofferenze ma che non si perde d'animo. E l'Aquila, in questo senso, ha molto da dire al paese. Molto è stato fatto, molto resta da fare. Più in generale, nelle politiche dei beni culturali, molto è stato fatto, ci sono stati ingenti investimenti pubblici, molto resta da fare. Occorre sviluppare, ed è il tema della giornata di oggi, una cultura di impresa che faccia tesoro di queste potenzialità e le trasformi in attualità, in concretezze. Penso soprattutto alla rigaduta occupazionale, che l'indotto di una corretta gestione dei beni culturali, anche in chiave turistica, può e deve ingenerare. Dalle imprese culturali riunite all'Aquila, un pacchetto di proposte concrete, la semplificazione della relazione con la pubblica amministrazione delle procedure di concessione e congestione del patrimonio, i provvedimenti per favorire l'occupazione di qualità, l'applicazione per gli operatori culturali relativamente alle loro attività specifiche di un'aniquota IVA agevolata, lo snellimento delle procedure del carico fiscale per le donazioni private a soggetti come ad esempio le istituzioni museali. Importante anche la valorizzazione dei borghi del territorio, anche perché le città d'arte oggi non riescono più a sostenere il turismo di massa, come afferma il sottosegretario. Noi abbiamo le grandi città d'arte che ormai non ce la fanno più a sopportare l'impatto di un turismo di massa e occorre una cabina di regia ministeriale, ma anche una interlocuzione con gli enti locali, che sappia rivolgere questi flussi turistici che desiderano visitare il bel paese alle zone interne, alle zone che si spopolano perché non c'è lavoro, come lei diceva, orientando intelligentemente i flussi con un turismo di qualità, non un turismo mordi o fuggi, ma un turismo che visitando e apprezzando la bellezza dei luoghi lasci in quei luoghi ricchezza.